E raccontare le potenzialità, le possibilità, sapendo anche che in questa meraviglia che è l'innovazione, come sempre ci sono cose meravigliose e c'è anche tanta schifezza. Io l'idea qui, l'emblema sono i social, no? I social sono un meraviglioso modo di interagire, di colloquiare, di stare insieme agli altri e sono anche una gigantesca fogna in alcuni casi, una gigantesca fogna di frasi sconsiderate. La discussione non è a ragione Umberto Eco o a torto, la discussione è come tu, cittadino, sei responsabile dell'utilizzo dei social e come tu, politico, aiuti, perché non è colpa dei social.